Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale per un nuovo video. Questa sera andiamo a vedere che cosa le carte vi devono dire riguardante a una persona, una connessione che avete con qualcuno. In generale andremo a vedere se è una persona della quale potete fidarvi o meno, che cosa potete aspettarvi da questa persona e le energie che ci sono nel vostro rapporto in questo momento. Quindi andremo a chiedere alle carte questo. Ho preparato per ciascuna variante una carta degli oracoli sciamanici, una carta degli angeli, gli oracoli degli angeli. E poi andremo anche con i tarocchi a vedere delle altre informazioni. Vi faccio vedere le pietre. Variante numero uno abbiamo questo lapis. Variante numero uno invece abbiamo un larimar. Queste sono i vostri cristalli. Come sempre vi chiedo di farvi influenzare dall'intuizione per fare questa scelta e non dalla mente razionale. E vi ricordo che questo è un video senza tempo, quindi sempre vale quando lo trovate sul web. Mi trovate anche su Instagram se volete, con il link che c'è nella bio del canale. Detto questo partiamo subito con la variante numero uno. Ciao variante uno, ecco qua la tua stesa. Tu hai scelto il lapis. Andiamo a vedere che cosa deve dirti. Innanzitutto la copietta di oracoli. Abbiamo la carta di mitox, repairing body, mind and spirit. E poi abbiamo helpful people. Ok, credo che questa persona sia qualcuno di positivo per te, che ti sta in realtà aiutando a fare una sorta di detox. Questa è una persona che potrebbe aiutarti a distaccarti da situazioni o pensieri che sono dannosi per te, anche relazioni. Magari questo è un amico o un'amica che ti sta portando fuori da una relazione tossica o che qualcunque ti dice cosa ne pensa riguardante a delle altre persone che per te non sono proprio così positive. Oppure potrebbe essere una persona che hai incontrato da poco che ti sta influenzando positivamente. In generale vedo che questa persona ha un impatto molto utile per te perché fa come da catalizzatore per te per sentirti nel qui ed ora. Quindi quando sei con questa persona ti senti presente nel momento e quindi non cadi magari in quelli che sono dei rimugini mentali nei quali sei solito essere quando sei da solo, sei da sola o sei con altre persone che magari non ti supportano. Questa è una persona che riesce anche a supportare quella parte più fragile di te. Quindi nel momento in cui tu probabilmente avrai già detto a questa persona che in certi momenti puoi avere delle difficoltà e con questa vedo una persona che sa supportarti e che non ti giudica per il tuo modo di essere o per le difficoltà che tu magari puoi avere. Specialmente se stai uscendo o sei appena uscito da una relazione tossica magari hai un po' di problemi nelle relazioni perché questo è dato da un po' quello che hai subito per cui hai vissuto quindi non è semplice ritornare nel mondo ecco vedo che questa persona è una persona veramente veramente positiva in questo momento. Poi magari non lo sarà sempre, non lo sapremo andremo a vederlo con le prossime letture però in questo momento credo che questa sia una persona in realtà che l'universo ti ha mandato per aiutarti aiutarti a uscire dalla situazione problematica nella quale ti trovi. Infatti abbiamo anche la carta degli angeli che dice healthful people quindi è una conferma è una conferma anche del fatto che questa persona potrebbe aiutarti a uscire da una situazione mentale che potrebbe essere stata molto problematica. Molti di voi ad esempio hanno avuto dei problemi appunto di rimuniginio mentale costante pensieri negativi, pensieri troppo illimitanti in certi momenti pensieri anche negativi, catastrofici e vedo che questa persona, potreste avere parlato a questa persona di questa problematica e vedo che questa persona potrebbe avere un modo di pensare diverso quindi avere la capacità di aiutarvi a diciamo correggere il vostro pensiero quando diventa troppo catastrofico ecco spero di essermi spiegata quindi questo è quello che questa persona riesce a fare quindi direi un impatto molto positivo il 39 parla della fine di un ciclo che si riarmonizza nella vostra mente quindi ritrovate un equilibrio mentale per cui è proprio questo, è proprio una conferma di questo vediamo adesso di avere delle carte dei tarocchi per capire più informazioni allora che cosa dobbiamo sapere riguardante questa situazione abbiamo la carta della temperanza al contrario cos'altro dobbiamo sapere abbiamo la carta del papa al contrario spero riusciate a vedere tutto cos'altro dobbiamo sapere riguardante questa situazione per la variante maruna abbiamo il matto e poi abbiamo il sole un'altra carta per favore ok allora il diavolo è caduto letteralmente giù dal tavolo quindi prendo questa cosa proprio come un messaggio riferito alla tossicità che questa persona sta facendo andare via dalla vostra vita abbiamo il 5 di denari sul fondo adesso vi dico che cosa vedo spero solo che vediate tutte le carte, sì? ok allora questa persona sembrerebbe essere qualcuno che vi porta tanta lucidità e tanta chiarezza abbiamo il sole questa è una persona che potrebbe arrivare da un posto molto questa è una conferma solo per alcuni magari un posto di mare un posto dove c'è tanto sole una persona che potrebbe vivere al mare o essersi trasferita nel posto in cui voi vivete da un posto di mare questo è solo, ripeto, un dettaglio ma non deve essere così perché questa è una lettura interattiva per tantissime persone oppure semplicemente questa persona potrebbe avere un modo di porsi molto solare molto chiaro molto positivo è come se vi desse energia positiva vi riscaldasse con la sua energia quando è con voi quindi una persona che porta chiarezza anche ripeto come già dicevo con gli oracoli porta chiarezza laddove nella vostra mente ci potrebbero essere dei pensieri che si rincorrono e che a volte diventano troppo mi verrebbe da dire paranoici quindi per alcuni questa cosa risuonerà ma non è per tutti potrebbe essere che per alcuni questo sia proprio dovuto avete sviluppato una sorta di costante rimuginio mentale dovuto a quello che avete vissuto nelle relazioni tossiche che avete vissuto quindi questa persona vi riporta con la sua presenza vi riporta a essere in equilibrio e vi aiuta laddove vede che per esempio pensate in maniera tossica per voi che magari vi fa del male questa persona la vedo essere in grado di riportarvi sulla giusta strada mentalmente quindi questo è quello che intendevo dire tra l'altro abbiamo il matto quindi questa è una persona che vi incita anche a buttarvi nelle cose fare qualcosa di nuovo è una persona anche molto propositiva e molto stimolante magari è una persona appassionata di cose che interessano anche a voi magari avete proprio conosciuto questa persona grazie a una vostra passione perché appunto è una cosa in comune quindi anche in questo senso potrebbe stimolarvi a buttarvi in qualcosa che vi appassiona quindi anche in questo senso è un bene perché non solo vi aiuta con i pensieri ma è anche qualcuno che vi aiuta a stare presenti nel qui ed ora quindi magari a dedicarvi concentrarvi focalizzarvi su delle passioni o su qualcosa che per voi è sano è utile la casa della temperanza al contrario con il papa al contrario mi dice che per alcuni qua non si tratta di una relazione d'amore o comunque non è qualcosa di romantico o non è qualcosa che può portare a un matrimonio ok questo è solamente per alcuni non è detto che sia così per tutti però credo che cioè molti di voi non stanno guardando questa variante per perché vogliono il matrimonio con questa persona per chi invece stesse guardando per quel motivo io vedo che voi in realtà non vorrete questo e ci arriveremo dopo è qualcosa che è arrivato nella vostra vita semplicemente per togliervi dalla stagnazione questa persona potrebbe essere molto importante come momento di transizione è una persona che vi prende letteralmente per mano e vi accompagna vi aiuta a transizionare vi porta nell'energia del sole vi porta nell'energia di calore e di speranza oserei dire perché questa è una persona che vi riporta la speranza laddove la labirinto della vostra mente a volte vi inghiottisce quindi è questo il suo scopo nella vostra vita se alcuni di voi per esempio hanno fantasticato sul fatto che questa persona possa diventare vostro marito vostra moglie ecco le carte vi vogliono dire che forse non è questo lo scopo di questa persona quindi di ridimensionare quelle che è la vostra aspettativa perché altrimenti potrebbe accadere che avendo le aspettative che non corrispondono a quello che è il senso di questa persona nella vostra vita cioè perché l'universo vi ha mandato questa persona nella vostra vita potreste magari trasformare questa situazione in qualcosa di non positivo per voi quindi le carte vi stanno dicendo qualora aveste magari sviluppato delle sorte di ossessioni o altro riguardo questo aspetto della relazione di lasciarlo andare perché lo scopo di questa persona è un altro ripeto quello di portarvi a discernere i vostri pensieri e riportarvi in contatto con voi stessi e riportarvi in contatto col qui ed ora questo è lo scopo di questa persona poi tutto ciò che verrà dopo lo diranno le stesse successive ma per adesso è importante che voi non vi soffermiate su questo aspetto perché altrimenti anziché fare questo quindi togliervi dal rimugino mentale potreste finire paradossalmente a rimuginare sul come e perché e se voi e questa persona potreste avere una relazione a lungo termine ad esempio oppure anziché buttarvi nel qui ed ora e magari fare delle cose insieme positive divertenti per voi potreste cercare di modificare il rapporto e farlo diventare qualcosa che magari non è destinato a essere o in questo momento non è giusto che sia quindi magari potrebbe creare delle problematiche nel rapporto spero di essermi spiegata quindi questo è quello che le carte vogliono dirvi la carta del re di spada il contrario con l'imperatrice mi dice che voi state finalmente anche transizionando da una situazione nella quale potreste essere stati ripeto in situazioni non positive per voi quindi qualcuno potrebbe aver avuto il controllo su di voi potrebbe avervi portati a fare qualcosa che voi non sentivate di fare insomma una situazione nella quale non stavate bene a una situazione invece adesso nella quale vi sentite di poter essere in potere quindi questa persona vi aiuta anche a riacquisire il potere in voi stessi e a ritrovare la bellezza che c'è dentro di voi il potere e l'erradicamento in quello che è il vostro potere non farvi più dire da nessuno cosa dovete fare come dovete comportarvi cosa è giusto per voi cosa non lo è insomma questa persona credo che vi dia anche un grosso boost di autostima è una persona che potrebbe dirvi che avete delle doti particolari potrebbe farvi notare quelli che sono i vostri talenti oppure per chi per esempio nella relazione tossica ha sentito dire dal partner tossico che per esempio non eravate di bell'aspetto o insomma non eravate avete perso un po' l'autostima anche dal punto di vista di livello fisico ecco vedo che questa persona potrebbe aiutarvi a vedere le cose diversamente anche in questo senso non mi stupirei se questa persona vi facesse molti complimenti ad esempio questo è quello anche sulla vostra intelligenza molti di voi hanno anche questa lacuna di autostima perché il partner o i partner o le persone in generale tossiche che avete avuto prima potrebbero essere state molto discriminatorie anche riguardo alla vostra intelligenza potrebbero avervi fatto sentire stupidi avervi fatti sentire non all'altezza in qualche modo vedo che questa persona invece però riesce a farvi ritrovare un senso di realtà nei confronti di ciò che siete di cosa siete in grado di fare quindi questo è il messaggio tra l'altro abbiamo la pietra del lapis che è una pietra riguardante la comunicazione quindi la comunicazione in questa situazione in questa relazione è molto importante questa persona non si non si non si astiene da comunicarvi quanto veramente siete positivi siete intelligenti siete belli di bell'aspetto talentuosi o qualsiasi sia ciò che voi non riconoscete in voi quindi questa è una persona che vi porta finalmente a rivedere a vedere forse anche per la prima volta per alcuni quanta bellezza ci siete dentro di voi e che non sia stata riconosciuta questo è il messaggio per voi variante numero uno spero davvero di esservi stata utile fatemi sapere con un commento se vi va noi ci vediamo molto presto in un prossimo video e io posto la variante successiva e grazie per la visione ciao variante 2 tu hai scelto il larimar questa è la tua pietra andiamo a vedere che cosa deve dirti innanzitutto la coppeta di oracoli poi andremo a prendere i tarocchi allora abbiamo la prima carta che è quella di connectivity jeweled web e poi abbiamo la carta di successo degli oracoli degli angeli ok allora questa è una connessione che ti porta altre connessioni quindi è una persona un'amicizia una una frequentazione che ti può portare ad aprire moltissimo la tua rete di connessioni questa è una persona che ti può portare anche a incontrare persone che per te sono molto possono essere molto positive quindi se ad esempio è una persona nuova che tu hai incontrato un'amicizia o per esempio è anche un'amicizia di vecchia data però comunque tendi a non essere solo insieme a questa persona ma a circondarti anche di altre persone quando siete in compagnia questo è uno degli scopi per cui questa persona è nella tua vita quindi qualora anche per te ci fossero delle problematiche o non fossi molto convinto sappi che l'universo non ha mandato questa persona nella tua vita solo con lo scopo che questa persona sia lì ma proprio perché questa persona ti farà conoscere altre persone quindi potrebbe essere che terzi siano importanti e che conoscerai queste terze persone in compagnia di questo individuo la carta di successo mi dice che questa è una persona che può anche in realtà portarti successo in determinati ambiti della tua vita magari avete un progetto insieme per alcuni potreste essere per esempio soci lavorativi oppure potreste avere un progetto di qualche tipo con questa persona vedo che è una persona comunque che quando vuole fare qualcosa lo ottiene questa è la cosa positiva di questo individuo potrebbe essere chiunque non lo sappiamo lo sapete voi però la cosa bella è che se fate squadra con questa persona questa persona vi può aprire delle porte insomma che forse da soli sarebbe più difficile aprire quindi questo è uno dei doni che questa persona vi porta stando nella vostra vita abbiamo anche c'è uno scopo di questa persona di portarvi a un livello successivo per quanto riguarda l'interazione e la relazione con le altre persone perché qui voi potrebbero essere spaventati a volte nell'interagire col prossimo però quando siete in compagnia con questa persona vi sentite più liberi e prendendo spunto da come questa persona vive le relazioni vedo che questa è una persona molto spontanea una persona che parla con tutti che non ha problemi a interagire anche scherzare eccetera quindi potreste sentirvi a vostro agio in questo senso quindi anche questa sua componente potrebbe giocare un ruolo importante per anche una vostra guarigione personale o un cambiamento personale che voi volete attuare vediamo adesso di avere delle carte dagli oracoli di Ryder White perdonatemi i tarocchi vediamo che cosa vogliono dirci allora che cosa volete dire alle persone che hanno scelto la variante numero 2 abbiamo la carta di del 6 di coppia al contrario allora che cos'altro volete dire alle persone che hanno scelto abbiamo il 4 di bastone al contrario abbiamo il 5 di coppe cos'altro volete dire abbiamo il 3 di bastoni abbiamo il esatto abbiamo il 6 ma perdonatemi il 4 di spade e poi abbiamo la ruota al contrario ok allora questa è una situazione nella quale forse non vedete chiaro adesso capisco perché avete chiesto di questa persona perché questa persona è allora questa persona è arrivata nella vostra vita ripeto per aiutarvi a connettervi con gli altri però di per sé questa persona non corrisponde proprio a un ideale di sicurezza quindi voi potreste non sentirvi particolarmente al sicuro o particolarmente protetti se per così per così dire con questa persona in compagnia di questa persona e questa persona potrebbe un po' rappresentare più la novità il la ventata d'aria fresca il una persona che vi porta ripeto in situazioni che voi magari non sondereste se foste soli ma sicuramente questa persona non rappresenta il focolare domestico per capirci o non rappresenta la famiglia o non è una persona che può creare una famiglia con voi se state chiedendo dal punto di vista romantico non è una persona alla quale rivolgervi nel momento in cui vi sentiate di avere bisogno di un sostegno ok non è questa la persona alla quale mi rivolgerei però questa persona ripeto vi può portare tantissime tantissime opportunità perché non è una persona veramente perché non è una persona che può sostenervi nel momento in cui state male o nel momento in cui avete delle problematiche perché questa persona ha delle problematiche di per sé questa è una persona che ha una sorta di ferita riguardo alle situazioni buttate andate andate via mi verrebbe da dire quindi potrebbe aver perso delle opportunità questa persona e quindi in qualche modo tende a buttarsi un po' in tutto fare tutto sempre perché non vuole più perdere opportunità però ovviamente ci va una via di mezzo un equilibrio quindi questa persona non ha questo equilibrio però questo suo essere così intraprendente associato a voi che invece siete persone un pochino più chiuse perché qua abbiamo il quattro di spade quindi potreste anche essere voi persone che in certi momenti si rintanano nel proprio silenzio magari non interagiscono molto con nessuno eccetera quindi questo questo paradosso di questa diversità così così forte vi porta quasi a trovare essere complementari quindi anche questa persona in realtà sta beneficiando della vostra presenza perché ritrova un po' un contatto di più con la terra mentre voi avete la possibilità di aprirvi delle porte fare delle cose nuove incontrare persone nuove eccetera quindi ampliare la vostra rete di connessioni questo è quello che le carte vi vogliono dire se cercate un equilibrio ok con questa persona forse non è la persona giusta se cercate qualcosa di tranquillo di pacifico di insomma avete capito no di su cui contare eccetera questa non è la persona però se cercate del movimento della vita dell'adrenalina cose di questo genere assolutamente questa è la persona quindi semplicemente di tenere questa mente e sapere che cosa questa persona può portarvi e quindi anche di conseguenza comportarvi nel senso che dove per così dire mi verrebbe da dirvi dove non riesce a mettere la testa questa persona forse dovete metterla voi però sì questa è una persona che vi può portare tanta tante connessioni nuove è un po' l'anima della festa mi verrebbe da dire no quelle persone che sono l'anima della festa che se si va in un posto animano tutti quanti gli altri ecco questo è il tipo di persona con il quale abbiamo a che fare perché vi dico di non lasciare perdere questa persona per voi intendo ovviamente magari li volete anche bene quindi è giusto che sia così perché questa persona oltre a portarvi in contatto con situazioni che non a quali non vi aprireste mai e anche qualcuno che può sbloccare la vostra ruota qua vedo una ruota al contrario quindi in qualche modo la vostra stagnazione potrebbe avervi portati un po' a fermarvi a stare sempre nella vostra mente a rimuginare tanto a non fare mai cose nuove ecco questa è una persona che vi porta fuori da quella cosa lì vi porta anche fuori dalla vostra zona di comfort quindi per questo è positiva il 5 di coppe mi parla sia della persona che ha questa sorta di ansia di perdere opportunità sia delle opportunità che forse stavate perdendo voi se magari non aveste iniziato ad aprirvi di più e quindi anche grazie a questa persona quindi assolutamente questa è una interazione positiva è particolare per questo motivo quindi se avete bisogno di stabilità solidità persone con le quali ritrovarvi chiedere un sostegno ecco magari cercate qualcun altro però assolutamente questa è una persona che l'universo vi ha mandato per farvi sentire vivi questa è la lettura per voi questo è il messaggio spero di esservi stata utile fatemelo sapere con un commento se vi va noi ci vediamo molto presto in un prossimo video vi ringrazio per la visione vi auguro una bellissima serata ciao ciao